Si è concluso sabato 11 agosto il progetto europeo di scambio interculturale tra giovani Rimini Bilbao, a proporlo l'Associazione Caribuni di Rimini e Chiribilsarea di Bilbao, che hanno unito le forze per proporre ai giovani partecipanti di età compresa tra i 16 e i 19 anni un'occasione di confronto per conoscere nuove culture e parlare di tematiche come conflitto, pace ed interculturalità. In Italia era la seconda parte del progetto e quindi con i ragazzi che si conoscevano già dalla precedente esperienza a Bilbao siamo riusciti ad approfondire le tematiche dell'interculturalità. Infatti qua a Onferno dove abbiamo alloggiato condividevamo la casa con dei ragazzi del Bangladesh rifugiati politici con i quali abbiamo fatto diverse attività di conoscenza ma anche di approfondimento delle tematiche dell'immigrazione in Italia. Con i ragazzi abbiamo sviluppato due attività principali in due giornate diverse che abbiamo completamente passato qui a Onferno. Un'attività è stata una sperimentazione da parte dei ragazzi di quattro vite differenti che poi si intrecciavano tra di loro, quindi quattro vite e quattro casi particolari di persone, tra cui il mafioso, il disoccupato, l'immigrato e la risolutore ONU e quindi attraverso un gioco di ruolo se vogliamo i ragazzi hanno sperimentato vite diverse e hanno capito come le scelte della vita quotidiana possono influenzare la società. Un'altra attività molto interessante che abbiamo fatto con i ragazzi è stata la cena dei popoli, che ha coinvolto tantissime associazioni di rimini, tra cui la cooperativa Terre Solidali che ci ha ospitato qua a Onferno. E appunto questa cena dei popoli è stata una cena con cibo da tutto il mondo, che è stato preparato dai ragazzi insieme a persone immigrate o persone che hanno fatto viaggi all'estero e che quindi hanno sperimentato con loro cucine e culture diverse. Altre cose che abbiamo svolto con i ragazzi sono le uscite di conoscenza del territorio, quindi abbiamo visitato Sant'Arcangelo, abbiamo visitato San Marino, Pennabilli, Rimini, Gemmano, abbiamo fatto delle attività di volontariato in collaborazione appunto con l'associazione Rio d'Oro che sta ospitando dei bambini sarawi a Nova Feltria e con loro abbiamo passato un pomeriggio di gioco e di divertimento. Il progetto, che è durato quasi un mese, ha coinvolto 12 ragazzi spagnoli e 12 italiani e si è svolto in due distinte parti, una a Bilbao e l'altra a Rimini. Finanziato dalla Commissione Europea attraverso il progetto Youth in Action, lo scambio ha trovato il supporto e il sostegno anche dei comuni di Rimini e Sant'Arcangelo e della provincia di Rimini. L'associazione riminese si è lanciata così verso una nuova direzione europea e di sensibilizzazione al volontariato, ponendosi nuovi obiettivi oltre all'attività di cooperazione internazionale per la quale i volontari si sono spesi negli ultimi 5 anni. Per riassumere gli obiettivi del progetto Rimini Bilbao, possiamo dire che abbiamo cercato di introdurre i ragazzi che hanno partecipato a questo alla realtà del volontariato. Questo è stato fatto da una parte attraverso una serie di attività di sensibilizzazione verso le possibilità che il volontariato offre. D'altra parte è stato fatto un passo indietro, si può dire, ovvero attraverso opportunità varie, attività, riflessioni alle quali i ragazzi sono stati invitati, loro stessi hanno potuto immaginare, sperimentare, diciamo, come il volontariato sia una strada possibile verso la soluzione anche, possiamo dire, di realtà diverse da quella italiana e da quella europea.